Cacciamani, come dicevamo con Giancarlo, li siete auto-eliminate. Molta marezza, ci crediamo molto in questo passaggio del turno, ma è andata così ormai. Che è successo? Le sembrava oramai fatta? Io sono uscito giù la 6-3 e la squadra sembrava messa bene. Forse tutti andavano su per cercare il gol e i contropiedi. Ci siamo mangiati. Questo è il risultato. Ci faremo il prossimo anno. Come ha detto Giancarlo, prendiamo questi nuovi acquisti. Il campionato, come è stato? È stato molto, ecco, l'ultima partita è scritto tutto. Anche altre prestazioni? È una bella squadra, un bel gruppo, solo che ci sputtaniamo sempre alla fine. Sarà per il prossimo anno. Sì, sarà per il prossimo anno. Grazie. Grazie. Grazie.